Milazzo Il piano prevede la realizzazione di una rotatoria in piazza San Papino per un importo complessivo di 135.000 euro. Una seconda rotatoria è prevista nella non lontana piazza Roma per un importo complessivo di 200.000 euro. Si tratta dei due punti trafficati del territorio urbano anche per la vicinanza di numerosi uffici pubblici. Costerà invece 148.000 euro la realizzazione di una rotatoria in via dei Mille. Il piano generale del traffico urbano prevede inoltre la riorganizzazione funzionale dell'intersezione in zona Vaccarella tra la strada panoramica e la salita Cappuccini nel tratto compreso tra la via Medici e la via Colombo. L'importo complessivo è di 120.000 euro.